Il dollaro è morente e l'euro, il suo figlio scemo, verrà sacrificato per tenerlo in vita. E ancora, l'unico modo per essere strozzati dall'inflazione e dalle banche è la finanza decentralizzata. Le cripto sono l'alternativa a questo sistema malato dove solo pochi guadagnano molto. Ma il dollaro, l'euro, le valute tradizionali, le valute fiat, così come vengono definite, sono davvero alla fine dei loro giorni? Siamo davvero di fronte ad un cambio epocale per quanto riguarda le valute? Un passaggio da valute tradizionali a criptovalute? Lo approfondiamo in questo video. Warren Buffett è famoso per aver detto che i mercati finanziari sono quell'unico negozio in cui quando ci sono gli sconti le persone scappano, escono dal negozio. In altre parole, è quell'unico posto in cui quando ci sono quotazioni a ribasso, quando ci sono gli sconti, le persone scappano, invece che, come succederebbe in altri contesti, vanno ad accappararsi gli sconti all'outlet o al negozio di turno. In ogni contesto di crisi o di difficoltà dei mercati finanziari, come quello che stiamo vivendo, ci sono grandi opportunità. Quali sono e come fare accoglierle? Lo approfondiamo in un evento esclusivo dal titolo L'investitore nella tempesta, che si terrà mercoledì 18 maggio alle ore 21. L'evento è totalmente gratuito, puoi iscriverti cliccando il link che trovo qui sotto. Ciao! Ogni volta che pubblichiamo dei video in cui analizziamo l'attuale contesto economico finanziario, riceviamo dei commenti come quello che abbiamo appena letto. L'unico modo per evitare di essere strozzati dall'inflazione e dalle banche è la finanza decentralizzata. E se da un lato è indiscutibile che la finanza decentralizzata, la blockchain e tutte queste tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi anni, o quantomeno sono diventate di dominio pubblico negli ultimi anni, stiano portando una grande innovazione all'intero settore finanziario, l'obiettivo di questo video, nel quale ti mostrerò una serie di grafici non particolarmente intuitivi o quantomeno aspettati, l'obiettivo di questo video è analizzare come si stanno comportando le valute tradizionali e le criptovalute in questo contesto di investimento. Un contesto di investimento che abbiamo visto nei video che abbiamo pubblicato recentemente contraddistinto da particolare incertezza relativamente ai tassi di interesse, relativamente all'inflazione che è ai massimi dagli ultimi 40 anni e comunque influenzato da un conflitto come quello russi Ucraina. Negli Stati Uniti l'inflazione si conferma molto elevata, ha toccato il picco dell'8,5% e anche in Europa, più indietro di qualche mese rispetto agli Stati Uniti, abbiamo toccato un nuovo massimo, 7,5% per aprile. Questo ha portato i banchieri centrali a intervenire, cioè con l'obiettivo di combattere l'inflazione e quindi è stato annunciato un primo aumento dei tassi di interesse a marzo, metà marzo circa, da parte della Fed. Un altro aumento di 50 punti base, quindi 0,5% è stato annunciato la settimana scorsa, quindi negli Stati Uniti si assiste già a un processo di normalizzazione della politica monetaria. A livello di Europa l'abbiamo già commentato, siamo un po' più indietro, ma è ragionevole aspettarci uno o più aumenti dei tassi di interesse già nel 2022. Bene, la variazione dei tassi di interesse porta ad un riprezzamento non solo degli investimenti, l'abbiamo già visto in questo video e se te lo sei perso vallo a rivedere, ma questo è solo la punta dell'iceberg nel senso che le modifiche ai tassi di interesse hanno un impatto anche sulle valute. Bene, dobbiamo capire un concetto, come si valuta se una valuta, perdonami il gioco di parole, ha aumentato il suo valore o perso il suo valore, nel senso che se noi guardiamo il cambio euro-dollaro o il cambio dollaro-euro o il cambio dollaro-sterlina o il cambio dollaro-yen, sono tutti cambi tra una valuta e l'altra, ma sono valutazioni relative, nel senso che stiamo confrontando l'apprezzamento o il depreciamento di una valuta con un'altra, ma a noi non interessa in questo momento capire cosa sta succedendo ad una valuta rispetto ad un'altra, al dollaro rispetto all'euro. Quello che dovrebbe chiedersi un investitore che vuole capire che cosa sta succedendo alle valute in questo momento di investimento è ma il dollaro, l'euro, sta acquisendo valore o perdendo valore rispetto a tutte le altre valute? Bene, è difficile dare una risposta a questa domanda se non analizziamo un indice, ok? US Dollar Index, cioè un indice relativo al dollaro americano che confronta l'andamento della valuta dollaro con una serie, con una moltitudine di altre valute, così da capire se il dollaro sta prendendo prezzo rispetto non a una valuta e basta, perché potrebbe essere l'altra valuta che perde prezzo rispetto al dollaro, ma rispetto ad un paniere ampio di altre valute, così da poter fare una valutazione più assoluta in qualche modo. Rimane sempre una valutazione relativa, ma è relativa a talmente tante valute che potremmo definirla assoluta. È un concetto un po' sofisticato, se non mi hai seguito non è importante, capiamo cosa sta succedendo al US Dollar Index. E a sorpresa quello che notiamo è che questo indice che rappresenta appunto la forza del dollaro rispetto ad altre valute è in crescita costante a partire dalla seconda metà dell'anno scorso. Scusa un attimo Giorgio, ma non ho capito. Gli Stati Uniti non hanno stampato talmente tanta moneta da rendere il dollaro assolutamente privo di valore? In questo grafico vediamo l'aumento della massa monetaria, cioè dei dollari in circolazione negli ultimi anni, in particolare rappresentato da Fed Balance Sheet, dalla riga nera. Come vedi già nel 2008 la Fed è intervenuta a sostegno dell'economia aumentando la massa monetaria e poi dopo con il quantitative easing 1, come vedi qui, quantitative easing 1, quantitative easing 2, è aumentato il supporto all'economia per tutto il periodo fino al 2018 in cui hanno iniziato ad aumentare i tassi di interesse, togliendo liquidità dal mercato, come si vede qui la liquidità in circolazione, i soldi in circolazione hanno iniziato a diminuire, poi c'è stato il covid e boom si è saliti alle stelle, praticamente i soldi in circolazione sono raddoppiati, la massa monetaria è raddoppiata e questa è stata un po' la narrativa di tutti coloro che si sono spinti nel mondo cripto, hanno detto di bitcoin in circolazione ce n'è 21 milioni, non ne possono essere prodotti altri, direi che ad oggi siamo circa a 18 milioni già minati, quindi c'è una supply, una disponibilità di bitcoin limitata, di conseguenza questo lo rende un bene rifugio, qualcosa di scarso in cui vanno a rifugiarsi gli investitori quando c'è tempesta nei mercati finanziari, questo non si può dire delle valute tradizionali perché come vediamo quando c'è crisi a livello economico le banche centrali stampano in modo importante, potremmo dire come non ci fosse un domani e di conseguenza se stampano tanto, se i soldi in circolazione sono tanti, per la legge della domanda e dell'offerta il loro valore scende, ma è davvero così? In realtà come abbiamo visto lo scenario non conferma questa tesi, perché il dollaro dalla metà del 2021 ha acquistato valore rispetto a tutte le altre valute più importanti, euro, yen, sterlina eccetera. Nell'ultimo anno infatti ha acquistato il 15% del valore rispetto ad un paniere diversificato di altre valute. Lo stesso non si può dire delle due principali criptovalute, Ethereum e Bitcoin, che hanno perso rispettivamente il 26% circa per Ethereum e il 43% di Bitcoin. Quindi Bitcoin, l'abbiamo commentato in altri video, non si dimostra un asset class, una classe di investimento che ci protegge da contesting di turbolenze sui mercati finanziari e quindi fai attenzione a dove l'hai posizionata all'interno del tuo portafoglio. All'interno dei nostri portafogli modello di impiano finanziario c'è una posizione all'interno di Bitcoin, ma non è sicuramente la componente difensiva del portafoglio. Per tutti quelli che pensano che Bitcoin sia ad oggi un'alternativa all'oro, non lo è. Ci sono ragioni per averlo in portafoglio, ma non è un'alternativa all'oro. Quindi paradossalmente quello che emerge è che le valute tradizionali, le valute fiat, in questo contesto di investimento acquisiscono valore. Lo stesso però non lo si può dire per le criptovalute, perché sono ancora troppo correlate con l'andamento dei mercati azionari. Attenzione, qui non si tratta di essere pro cripto, contro cripto, ok? Personalmente ho investimenti in criptovalute piccoli, sia personalmente che all'interno dei portafogli abbiamo posizioni in criptovalute, ma attenzione il punto qui è essere analitici e capire che è una classe di investimento che va inserita all'interno di una specifica posizione del portafoglio. Sicuramente, come abbiamo capito, non quella difensiva. A questo punto però ti starei chiedendo, scusa Giorgio, ma com'è possibile? Se hanno raddoppiato la massa monetaria, perché adesso è aumentato il valore del dollaro? Ottima domanda! Scrivimi la tua migliore ipotesi nei commenti. Abbiamo iniziato questo video parlando dei tassi di interesse perché sono questi che definiscono il valore che ha una moneta, ok? Quello che sta succedendo viene definito in termine tecnico carry trade, ok? È un concetto un po' tecnico, ma ti basti capire l'idea. Se c'è un'economia che sta aumentando i tassi di interesse, sta facendo costare di più il denaro, quello che succede è che gli investitori vogliono andare ad investire in quell'economia, ok? Andare a prendersi quel tasso di interesse. Perché? Perché che senso ha tenersi dei soldi magari nell'obbligazionario europeo che rende zero se dall'altra parte del mondo stanno aumentando i tassi di interesse e fanno rendere di più il nostro capitale investito in titoli obbligazionari? Questo viene fatto dall'investitore qualunque che si va a comprare un titolo obbligazionario negli Stati Uniti per dire attenzione che c'è un problema che è il rischio valutario. A volte ti può essere d'aiuto, in altri contesti ti rema contro. Se vai all'estero a comprare obbligazioni stai attento alla valuta. Ma viene fatto anche da hedge fund, ok? Da fondi speculativi. Che cosa fanno? Vanno a prendere in prestito denaro che costa poco, tipicamente magari in Europa che costa meno, o meglio costava un po' meno, o in altre economie dove costa poco il denaro e lo vanno ad investire in altre economie in altri mercati in cui c'è una maggiore redditività, che hanno maggiori tassi di interesse. Di conseguenza questo fa sì che aumenta la domanda per la valuta di quell'economia che sta aumentando i tassi di interesse. Questo si chiama carry trade ed è quello che sta succedendo in questo momento. Perché? Perché il cambiamento dei tassi di interesse porta anche a un riprettamento della valuta. La valuta vale di più se ci sono tassi di interesse più elevati. È ovvio, ma è ampiamente trascurato da tutti quelli che sposano l'idea delle criptovalute, non hanno mai visto un ciclo economico nella sua interezza, non sanno cosa succede in contesti di turbolenza dei mercati finanziari, di aumento dei tassi di interesse, esposano una filosofia in modo dogmatico, cioè senza metterla in discussione, senza capire cosa c'è dietro ad una decisione di investimento. Bene, questo è un risultato totalmente inaspettato e quando internamente con il team di analisti di piano finanziario ci siamo accorti di questa cosa particolarmente inaspettata, che una valuta fiat in questo momento di turbolenza sui mercati, quando meno ci si aspetterebbe un suo apprezzamento, ha effettivamente aumentato di prezzo a differenza di quanto hanno fatto invece tutte quelle classi di investimento che dovrebbero difendere il vero potere d'acquisto degli investitori in contesti di turbolenza finanziaria, abbiamo deciso di fare questo video. E nel preparare questo contenuto ci è venuto in mente un concetto molto importante di Howard Marks, famosissimo investitore americano, tra l'altro ha scritto anche vari libri, vale a leggere, sono molto interessanti e l'idea più interessante che mi porta a casa dall'avere letto i suoi libri è questo, è l'idea del first order thinking, second order thinking. Cosa significa? First order thinking significa il primo livello di ragionamento, cioè una persona tende a trovare sempre la soluzione più semplice, ma se vuoi diventare un investitore di successo, quindi non uno che prende a bagli come molti investitori che si aspettavano un certo tipo di comportamento dalle criptovalute che in realtà oggi si sta dimostrando non essere quello che si aspettavano, bene, devi diventare un second order thinker, cioè una persona che fa un secondo livello di ragionamento. Ok, ma adesso ti spiego esattamente cosa significa primo livello, secondo livello, te lo spiego dopo che hai messo like a questo video, perché chi ne parla di queste cose? Nessuno, tutti ti dicono quali sono le tre cripto da comprare, ma nessuno ti parla di ciclo economico, di contesto economico finanziario, di come si comportano le classi di investimento al mutare delle condizioni di investimento. Noi lo facciamo, metti mi piace a questo canale, iscriviti al canale se non ti sei iscritto, perché se non lo fai ti vediamo e poi interveniamo. No, scherzo, ok? Però a parte gli scherzi, se vuoi accedere a contenuti di educazione finanziaria di spessore che difficilmente, o meglio è quasi impossibile trovare su YouTube, iscriviti al canale, metti mi piace e non ti perderai i prossimi contenuti. Bene, questa definizione ci fa capire cosa vuol dire first order thinking, second order thinking, ok? In inglese ma te lo traduco io. Bene, tutto il primo livello di ragionamento è la risposta semplice basata su credenze e esperienze passate, su quello che è il tuo storico, su quello che hai vissuto. Tu l'hai mai visto? Un aumento dei tassi di interesse di due punti percentuali? No, non si è investito dal 2010 in poi. Quindi come fai a capire certi fenomeni se non li hai mai visti, non li hai mai vissuti? Nella maggior parte dei casi se non studi autonomamente certi fenomeni ti fermerai al primo livello di ragionamento. Questo è un livello di ragionamento, un modo di pensare che è molto intuitivo e veloce e ignora le conseguenze di quello che andiamo a fare, ok? Mi fermo lì, quindi Bitcoin ce n'è 21 milioni, è limitato quindi è un bene rifugio. No, ferma, c'è un po' di più di analisi da fare. Questo ci porta ad avere gli stessi risultati che hanno tutti gli altri, che quando si parla di investimenti ahimè sono pessimi, ok? Lo dicono le statistiche. Il primo livello di ragionamento è appunto facile, credibile, superficiale, reazionario, ok? Molto istintivo, ovvio, ok? Talmente ovvio che non è credibile, ok? E convenzionale. Ma se tu sei qui, se hai già cliccato mi piace a questo video, se ti sei iscritto a questo canale è perché tu vuoi capire come ragiona un investitore vero, ok? Che ha il secondo livello di ragionamento. Il problema è che questo secondo livello di ragionamento è difficile e va oltre quelle che sono le tue assunzioni e le tue credenze, ok? Qui non dobbiamo sposare una filosofia, dobbiamo avere un'idea di investimento e costantemente metterla in discussione perché non esiste una verità, esistono molteplici verità. Il problema è che questa modalità di ragionamento richiede grandissimo sforzo, ok? Ed è difficile, complesso, non certo, non ci sono certezze nel mondo degli investimenti perché se ci sono delle certezze significa che qualcuno prevede il futuro e molto spesso è non convenzionale l'essere un bravo pensatore di livello 2 significa avere delle opinioni contrarie a chi? A chi è al primo livello di pensiero, ok? Che prende sempre la strada più semplice e soprattutto per poter ragionare a livello 2 devi essere un grande conoscitore dei mercati finanziari. A questo punto ci dobbiamo porre una domanda, ma vogliamo noi essere pensatori di livello 2 o vogliamo affidarci a investitori o consulenti di livello 2? Entrambe le opzioni sono percorribili, l'unica cosa certa è che non vuoi fare l'errore di chi ha fatto le considerazioni all'inizio del video, chi ha detto di moneta se ne stampa tanto e quindi perde di valore. Si è fermato a livello 1 di ragionamento, ha pensato che le sue conoscenze del mondo dei mercati finanziari gli bastassero per poter fare un'analisi finanziaria mirata e centrata, in realtà ha preso fischi per fiaschi. L'obiettivo di questo video è farti capire innanzitutto che ci sono fenomeni inaspettati, imprevedibili se li guardi con l'occhio di un investitore che si ferma al primo livello di ragionamento. E secondo che ci vuole tanta umiltà per capire che magari la nostra opinione potrebbe essere sbagliata. Ci vuole tanta umiltà nel sentire altre campane e dire oh però c'è del buono anche in quell'opinione, anche in quell'altra opinione. Non conosco nessun investitore, tra questi Ray Dagli è famoso per aver spiegato qual è il suo processo decisionale, nessun investitore che sia stato vincente senza aver messo in discussione le proprie idee. Perché? Perché vuole passare dal primo livello di ragionamento al secondo livello di ragionamento. È raro che la prima idea sia così ottima ad essere confermata anche al secondo livello di ragionamento. Molto spesso certe idee devono essere corrette perché magari per quanto siamo bravi, siamo analitici, siamo analisti, ci siamo persi un elemento che è quello che rende corretta l'analisi. Questo è l'unico modo per diventare un investitore efficace, che non sale sul treno di cui parlano tutti gli investitori che si limitano al livello 1 di ragionamento, ma che invece investe il suo patrimonio in un modo responsabile, concreto e soprattutto adatto a qualunque contesto di investimento. In particolare a quelli particolarmente difficili che dobbiamo affrontare noi investitori di questo 2022. Fammi sapere quali sono le tue riflessioni nei commenti. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Ciao!